Un cordiale buongiorno a tutti. Dopodomani, domenica 4 agosto, tempo bello e soleggiato su tutta l'Italia per la presenza dell'anticiclone nordafricano. Soltanto le regioni alpine saranno sfiorate dalla coda di una perturbazione che transiterà sull'Europa centrale, quindi nelle ore pomeridiane su Alpi e Prealpi avremo lo sviluppo di qualche rovescio temporale. Andiamo a vedere l'immagine del satellite virtuale che ci fa vedere proprio come questa nuvolosità scarsa presente sulle Alpi sarà quella che determinerà proprio lo sviluppo pomeridiano di rovescio temporale su queste zone, mentre sul resto dell'Italia, e non solo, fino alla penisola balcanica, il tempo resterà praticamente bello proprio per la presenza dell'anticiclone. Anche la massa d'aria che saranno presenti sul Mediterraneo saranno ancora dettate dall'anticiclone nordafricano, infatti vedete come questa lingua di aria calda continui proprio ad insistere sull'Italia e sulla penisola balcanica, mentre l'aria più fresca è presente ad ovest del nostro continente. Il tempo per la giornata di domenica quindi sarà ancora contrassegnato dal sole su quasi tutte le nostre regioni, da parte appunto come vi dicevo le Alpi e le Prealpi che nel pomeriggio vedranno questi rovescio temporali isolati che comunque si attenueranno nelle ore serali. Per quanto riguarda le temperature saranno in ulteriore lieve aumento con valori massimi per lo più compresi tra 33 e 38 gradi. Bene, termino qui, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro ancora una buona giornata.